L'amministrazione comunale aderisce alla giornata mondiale della povertà e alla notte dei senza fissa dimora, in programma il 17 ottobre. L'amministrazione comunale, ha detto oggi a Palazzo Notario l'assessore al welfare Mirella Zamberlo, con le associazioni che da anni si occupano di povertà, ha voluto collaborare per una tre giorni di iniziative allo scopo di rendere evidente la situazione anche alla cittadinanza. Un modo inoltre per valutare quanto si sta facendo e capire i punti di criticità da migliorare. L'obiettivo è potenziare la rete anche con servizi nuovi dove ce n'è bisogno. Guardando i dati, la leggera riduzione della povertà assoluta osservata in Italia nel 2019 non si è riscontrata nel nord-est, dove la sua rilevanza è invece stabile, con un'incidenza tra le famiglie pari al 6,6%, era il 6,5% nel 2018, stabile anche l'incidenza della povertà relativa pari al 6,9% delle famiglie residenti nelle regioni del nord-est. Utilizzando questi indici si possono stimare oltre 1.500 famiglie in condizioni di povertà assoluta nella città di Rovigo, che diventano 6.700 nell'intera provincia, ovvero persone che non dispongono di risorse economiche sufficienti all'acquisto di generi di prima necessità. Utilizzando gli stessi indici territoriali si può calcolare anche l'incidenza della povertà relativa, quella basata su una capacità di spesa inferiore del 50% della media nazionale. In questo caso le famiglie in condizioni di povertà relativa che comprendono il campione precedente sono stimate in quasi 1.700 Rovigo città e altre 7.000 nella provincia. Dopo la povertà assoluta c'è quella che si può definire come la miseria assoluta, quella che costringe le persone ad accedere al welfare di sopravvivenza, fatto di mense popolari e dormitori. All'unica mense cittadina offerta dai frati Capuccini si rivolgono tra le 20 e le 30 persone al giorno. Quelle che accedono per periodi più o meno brevi ai due asili notturni cittadini sono circa 120, un dato consolidato negli ultimi anni. Un altro centinaio sono le persone che non transitano negli asili notturni e hanno accesso a servizi di natura residenziale. A queste persone si sommano quelle che, per ragioni diverse, non accedono ai dormitori o alle strutture residenziali ma sono a loro volta prive di un alloggio e fanno riferimento a dimori improprie. Sono le persone che utilizzano gli spazi della stazione ferroviaria di Rovigo ma soprattutto persone piccoli nuclei che trovano riparo in case abbandonate situate nel centro storico o in periferia. Anche in questo caso si può osservare come non vi sia un particolare allarme sociale. La povertà, in altre parole, è vista come un incidente ovvero un evento imprevedibile che accade solitamente agli altri. Oggi è una giornata bella e importante, ha detto la Presidente della Seconda Commissione Consiliare Benedetta Bagatin, che ci ha permesso di far conoscere servizi che spesso non si vedono. È fondamentale conoscerli per cercare di migliorare le condizioni di chi è in gravi condizioni di marginalità, conoscere per includere. È questo l'obiettivo? Le iniziative che si svolgeranno sono state illustrate dai referenti delle varie associazioni coinvolte. Carlo Zagato per Portoallegre, Donata Tamburin per Arci Solidarietà, Don Silvio Mandruzzato e Mauro Rossin per Caritas e Don Silvio Bacaro per la parrocchia di Borsea e casa di Abram.